Andiamo al tavolo, Guido, eccolo qua, allora benvenuti, ci siamo tutti ma adesso stasera è una serata pazzesca, pazzesca e non so da dove cominciare perché come faccio qua, è una roba... Scusami perché prima dicevi Eurovision, secondo te non lo pronuncio bene io? No, benissimo, anzi, allora io lo pronuncio abbastanza bene ma io mi sono sentito male quando l'hai pronunciato tu, no, perché io non ho studiato l'inglese, non lo so, io imparo dalla televisione, lui l'ha detto l'americana, ma io infatti l'ho imparato da lui, io nel mio piccolo... Io sempre dico Eurovision contest, ti capisco, no cara, sì, mi dispiace per te, io sono stato dieci anni in Australia, bambina, perciò parlo abbastanza bene, avevo un anno, avevo un anno fino a dieci anni, ma io adoro questo, no, beh, sono felice per quanto riguarda tutti voi che siete veramente meravigliose, ma la cosa alla quale sono rimasto veramente sconvolto la settimana scorsa, ovunque di questa patata, che cosa ho detto io di male? No, aspetta, Guido non sa nulla, meglio così, meglio così, sì, ti piace la pasta con le patate a te? A lui sì, vado ghiotto, ecco, e a te che non piace la patata, hai capito? Vabbè basta, tutta la settimana, basta, ma io sono allergico alle patate, ragazzi, non ce ne freghi a niente, ma neanche a me di voi, scusate, basta patate e provola, allora voglio fare vedere, voglio fare vedere invisibili la copertina, ecco, 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 grazie Simona, grazie mille, Invisibili, come si dice invisibili nella tua lingua? Invisibili, in English I don't know, darling, invisible, da che sappiamo l'italiano, vogliamo andare anche a parlare? Ah, ti volevo fare un regalo a te, Simona, aspetta, questo è un libro importantissimo, è un importantissimo, è un professore universitario, Carlo Rimini, si chiamava, il professor Carlo Rimini, che ha scritto questo libro, perché non ti sposi? No, te lo dico, questo è edito da Pacini, editore, ha vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica in area di scienze giuridiche e spiega perché non ha senso sposarsi, io te lo do, e fai quello che vuoi. Ma scusa, è uscito da poco, io sono già sposato da più di 30 anni, ma Fabio, ma sta data del 6, si sposa veramente il 6, Simona, io lo voglio sapere, perché io voglio esserci, spero che lei mi infili. Certo, ma assolutamente sì, ormai, ormai, prova a non invitarlo adesso, assolutamente sì, ma perché non ti sposi in che senso? Ma io mi sposo. Noi siamo il paese, l'Italia, il paese in cui ci si sposa di meno in assoluto, perché ci si sposa così poco, perché non c'è nessun motivo giuridico per sposarsi, ma leggilo, perché magari poi ci pensi. Me lo regali? Certo. Firmamelo. No, no, adesso non lo so, ma l'autore, non io. Ma tu, quanto, ma non si usa più. 30 anni. 30 anni di sposato? Firmamelo. Sì, ma non mi sposo il 6 luglio, 30 anni fa. This is life, this is love. Grazie, chiusa parentesi. Allora, stasera. Stasera è complicata. Stasera tutti liberi. Allora, no, volevo dare il benvenuto a Gianluca Torre, che è la prima volta che viene in questo programma. Casa prima vista, insieme a Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, in onda su Real Time. Buonasera, benvenuto, come stai? Grazie, è abbastanza emozionatino. Ma dai, che emozionatino. Ci venivano in tre, insomma, in realtà, molto onorato di essere qui. Ma grazie a te, io ho delle domande pazzesche da farti. Attenzione. Posso? La prima domanda è, senti, tu parli spesso dei living? Sì. Ecco, quando è successo che il tinello si è chiamato living? Cioè, in che anno è accaduto? In che anno è accaduto? Sei immesso male, 30 anni di matrimonio, non sai cos'è il living? No, lo so cos'è il living, ma dico, quando è accaduto? Noi lo chiamavamo, ci vediamo in tinello. Il tinello, esatto. Beh, dai, tinello già da un po' che non si sentiva, dai. Ma il living, quando è successo questa cosa? Poi si è iniziato a parlare di soggiorno, poi living vuol dire zona giorno allargata, quindi che possa anche ricomprendere magari una cucina. Cioè, zona giorno. Rapo, tu vedo che sei d'accordo. Sì, sì, perché è giusto anche con il linguaggio rinnovare. E io seguo con attenzione il tuo programma. Tra altre cose, io tra pochi mesi dovrei uscire da qua. e sarei interessato a un oggetto su Milano. Quindi se poi dopo mi puoi dare delle dritte, perché mi interessava molto la zona di Piazza del Duomo, escluso, naturalmente, il Duomo, che è un locale di culto a Milano. Cioè, quello non è invenito. No, perché quello fa già un sacco. Il resto ci sono. Va bene. Verrò tolto. Ma Gianluca te lo trovo. Dopo ne parliamo, ci scambiamo i device. No, io dovrei prendere casa a Istanbul. A Istanbul? In Turchia, sì, è vero. Come mai, Cristiano, proprio a Istanbul? Perché io amo molto questa città. Ma se c'ha fidanzato il Duomo. Ma lo so che c'ha fidanzato il Duomo. No, no, io devo prendere questa casa. Noi non ci crediamo, quindi ce lo devo far conoscere. Amore, tu sai che io sono molto privato. No, allora, veramente, io devo prendere una casa a Istanbul. Tu conosci qualcuno? Siamo vicini. Ma dove la vuoi? Sul fosforo? No, sul fosforo. No, perché sul fosforo costano di più, veramente. Sul fosforo. È lo streco, l'istmo. C'è l'istmo del fosforo, veramente. Va bene lì, sì, così guardo il mare, vedo le navi passare. Ma sì, mamma mia, è normale questo, stasera, scusate, io voglio una casa, voglio una bella casa, nel centro di Istanbul, perché io amo Istanbul. Ma lì, se la vuoi sul fosforo, ti ho detto. Ma certo, sul fosforo. Certo. Ma anche... No, ha detto fosforo, no, fosforo. Sì, ho capito, ci metti pure tu. No, guardami, così lo intende colà, cioè. No, tesoro, lo intendo molto bene. Va bene. Ma la cerchi, per favore. Fabio, Simona, non crede che lui abbia il fidanzato. Vero? Tu non ci credi? No, no. Non ce lo fa vedere. Si chiama Caltagirone. Ce lo fai vedere? Si chiama Caltagirone. Ma perché io non posso avere un amore? Si può sapere? No, Simona, Simona. Guarda il Caltagirurk, perché è turco. Ma senti... Ma scusa, ma che cosa ve ne frega? Ma infatti, bravo, Cristiano, bravo. Ma non l'ho capito io. Ma infatti, che... Ma scusa, ma la storia è finita, sei contenta? Eh? La storia è finita. Ma questo ce l'avevi già detto. Ma ce l'avevi già detto? Te l'avevo detto, è finito tutto. Adesso sono libero e bello. Ma allora cosa te ne frega di andare a prendere una casa a Istanbul? Perché io adoro Istanbul, adoro i profumi di Istanbul. Perché erano anni che cercavo un ottomano, veramente, finitamente l'ha trovato. Una mano, ma ottomano, ottomano, veramente. Va bene, allora, Francesco, Paolo Antoni, grazie, è appena arrivato da Napoli. Sì, sono appena arrivato da Napoli, perdonate la mia voce, ma sto affrontando uno spettacolo molto impegnativo. Lui è in tour, col suo spettacolo, Otello Oio si chiama. E la gente ride solo al titolo. La gente ride no solo al titolo. No, dico già dal titolo. Ah, già dal titolo. Poi continuo a ridere. Ma è uno spettacolo estremamente impegnativo. Ti manca la parola stasera, però. E' perché ho perso la voce, perché do molto sul palcoscenico. Sto avendo davvero un successo trionfale. Noi abbiamo... Oggi siamo andati a teatro a Napoli. Max, sul suggerimento di Simona Ventura. Ma perché non ci fai vedere una volta cosa succede a teatro? Anche per vedere se c'è qualcuno in sala, insomma che... Non ho capito. No. Dico, una volta tu chiami un teatro, cioè tu chiami un... Il tre fa un concerto. Sì. Chiami e ti senti dire mi dispiace, non c'è posto. Siccome io ogni volta... Infatti non c'è posto, non c'è... No, no, c'è sempre posto. Da te. No, ma è anche una cosa gentile. Da me non c'è posto. È una cosa gentile, perché quando uno vuole andare a vedere una cosa a teatro e non c'è posto, ci rimani male. Eh, lo so. Se quando chiami per lui ti dicono che fila vuole? Eh. Eh, la tre, la quattro, la cinque, la sei, la sette, la otto, la no, tutte le file. Vuole il posto a destra, a sinistra. Ma dove questo? No, dico, tu che sei gentile e fai stare al proprio agio il pubblico. Non posso, perché è talmente pieno dall'inizio, dall'inizio, da prima ancora che io ci vada. Ma sono i miei di omaggio, vero? Eh, non ci sono omaggi, non ci sono più posti. Vabbè, a Napoli... No, a Napoli che significa? No, 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 nel senso che giochi in casa. Si entra così. No, giochi in casa, i tanti amici, i compagni di scuola, cioè... No, 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 non ho potuto invitare tutti i miei amici, perché era talmente tutto pieno il teatro, che non ho potuto invitare tutti gli amici. Non mi arrabbiare. Mi scuso con tutti i miei amici. Ma io non sono comoso. No, non sono comoso, senza voi. Mi scuso con tutti i miei amici che non sono potuto... Io vorrei sapere che cosa vuol dire, è O, O-tello, oppure... È O-tello tutta un'unica parola? No, è O-tello. 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 Ma tello che? Ma chi è questo O-tello? È una sorta di sceglia. Ma tello che è? È O-tello, O-tello. Ma è O-tello, oppure io vedo qua O e poi... È un gioco di parole, non riuscito... È un calambur, un calambur, un gioco di parole. O-tello è una scelta. Adesso vi chiedo un attimo di concentrazione. Sì. Abbiamo le immagini che Simona mi ha suggerito, registrate... Ma dove le hai suggerite? Mi ha suggerito, perché non mandiamo le telecamere a metodone? Ma io non hai ragione, per vedere se è vuoto o se è pieno. Ma io lo sapevo, io lo sapevo. No, non lo sapevo. Non lo sapevi per volerti bene. Pensi ora che si ride tanto. Sì, si ride, ma... Ma vedi? Ti stanno vicino. Ti stanno vicino gli esteri. Non mi è piaciuto assai però, mi sembrava. No, no, quando russano loro, quando sono contenti russano. È una lingua, non capisco. È un'usanza delle galassie quella di... Apprezzano. Apprezzano, moltissimo, apprezzano moltissimo. Ma sono contenti, grazie. Ma prego, figurati, è un piacere. Oh, il 3, Guido. Eccoci. Tu ti chiami Guido come Guido? Molto piacere. Piacere. Bene, molto bene. Guido come Guido, il 3 viene dalla tua data di nascita? Sì, in famiglia siamo tre, sono nato il 3. Anche io sono nato il 3. Che mese? Il 3 marzo. Io 3 settembre. Allora sei più giovane. No, ma... Questo è buono. Qualche mese. Di poco. Quindi, tu Nino potresti essere l'11? L'11. L'11. Allora, prima di far vedere un video che abbiamo preparato per Guido, c'è la pubblicità? La mandiamo in onda? Sì. Fanno dei cenni, credo di doverla mandare in onda. Possibile. Mi spiace, vi stavo divertendo. Va bene. Sto accorriandovi, la lancia lei la pubblicità? Allora, mi raccomando, non andate soprattutto nella Rai. No, non è la Rai. Siamo il nome. Rimanete qua, perché c'è la pubblicità resistente. Va bene, la resistete un attimo, dai, pubblicità. Dove volete. No, è un attimo, vai, vai. Quello che voglio. Come with me for fun in my baguette. Come along, let's go for the hell of it. Allora, dicevo prima di Guido, in tre, che tu hai già quattro dischi di platino, due dischi d'oro, sei stato il primo italiano a raggiungere la terza posizione nella global chart di debutto su Spotify, che non so cosa vuol dire, ma l'ho letto tutto d'un fiato. Però credo sia una cosa bella. È una cosa bella. Bella, mi fa piacere. Poi nel 2022, invece, questo lo so, il tuo album di esordio, ha vinto il premio Lunezzi a menzione speciale. Esatto. Allora, noi abbiamo preparato per il tre queste immagini che gli dedichiamo. A Guido. Vai, vai. Vai, andiamo. Grazie. Grazie. Bravo. Bravo, sì. Grazie mille. No, a proposito di un baguette della macchina, io volevo salutare Rebecca Busi e presentarla. Adesso ho dato un attimo di tempo per ambientarsi. Sei stata l'unica pilota donna italiana. Fai vedere il casco, che roba pazzesca, guarda qua, che roba. Ha disputato la 46esima edizione del leggendario Rally Dakar. Cos'hai guidato? Un baggy, SSV, quello. Ma come si chiama? Si chiama Canam, la marca. Canam? Sì. E ti sei classificata? Alla Dakar abbiamo avuto un po' di problemi. Ok. Alla Dakar abbiamo avuto un po' di problemi, sono arrivata a 22esima. Perché c'è stato un incidente nella seconda tappa. Perché un'auto che viaggiava in direzione opposta ti è venuto addosso e perso la vuota. Sì, eravamo alla stage 48 ore. Era uno stage dove dovevamo fare all'incirca 600 chilometri di Dune, solo Dune. e il secondo giorno siamo partiti direttamente dal punto in cui abbiamo dormito in mezzo al deserto, non avevamo assistenza, non avevamo niente. Bello. Quindi non è vero che nel deserto non si trova nessuno, può capitare di incrociare altri. Giusto? Esatto, bravo. Uno si immagina tutta dritto invece... E se trovi uno ti viene addosso. Tu pensa, la cosa che ti potrebbe capitare di meno. Poi dal 25 febbraio al 2 marzo hai partecipato anche all'Abu Dabi Desert Challenge. Sì, esatto. Tu sai guidare? Sì, però non con lei. No, no. Sai fare parcheggi in salita? Parcheggi in salita, sì. Sì. Sì, sono un po' incoscienti in macchina. Se uno vorreste farmi scherzi a parte meglio non lo faccio in macchina. Va bene. Sai che sono una belva. Poi facciamo così, 28 anni, 3 Dakar in carriera. Vero. Quella di quest'anno, quella del 2023 e quella del 2022. A 26 anni si è diventata appunto la più giovane italiana di sempre a partecipare alla Dakar e guardate queste immagini che ti abbiamo dedicato. Brava. Brava, brava. Beh, mica. È un casco pazzesco quello. Grazie. Ma che cos'è? Mi piace tantissimo. Pensate, ma che cos'è quella cosa dietro che si vede sopra? Questo è un apparecchio dove c'è in macchina un tubo che manda l'aria dentro il casco per togliere la polvere. Ah, sai che mi chiedevo infatti come si fa con la polvere? Così? Cioè c'è un aspirapolvere contigo? Sì, più o meno un aspirapolvere. Ho deciso una pecola. Ho deciso una pecola. Arrecco. Arrecco. Non hai ferito una pecola? Ho ferito, però adesso sicuramente sarà bene. Non lo so mai fare. Beh, sapendo che non hai preso la patente sarà felice. Eh sì. Certo, certo. È una bella coppietta. Tu ce l'hai la patente, Revecca? Credo di sì. La patente ce l'hai? Valentino per anni non ha preso la patente. No, nella disciplina che facciamo noi la patente ovviamente è obbligatoria. Eh, ok, ok. No, va bene, ovviamente. Peccato. Tu ce l'hai la patente? No, perché ho fatto scuola guida, poi ho fatto un giro con mio marito, ho fatto marci indietro, ho beccato un camioncino con le acque minerali. Con le acque minerali? Sì, non ti posso dire, ma acque minerali da tutte le parti, lo vino che non ti posso dire che cosa ha detto, perché? Se non lo può dire lei, pensate. Pensate cosa può aver detto. Gasata o naturale era? C'era di tutto, gasata, naturale, perché l'ho beccato in pieno. Lui ha detto perbacco signora, stia attento l'altra volta, capito? Quindi ha avuto lo stesso trauma, lo stesso trauma hanno avuto. Non sentiamo niente con la voce. Hanno avuto lo stesso trauma. Ah, sì, sì, lo stesso trauma. Sì, però dopo mi sono spaventata non ho più preso la patente. Beh, allora andiamo a la fare. Possiamo andare a Istanbul? Nemmeno io. Tu non hai la patente? Ho la patente dell'accanto, di quello che sta accanto. Vai piano, vai dritto, vai coso, ma non ho la patente. Invece Max, tu sei un grande appassionato di motori. Sì, io corro in moto. Eh. Littora, sì. Ma che fai? Non mi ricordo, enduro o no? Eh, motocross. Ma cross fai, fantastico. Tu sei il pilota. Ho cominciato a 50 anni dopo 30 anni che avevo smesso. Perché c'è sempre paura che il tempo vada più veloce di me, quindi mi avvantaggio. E certo, hai ragione. Mi piace correre in moto, sì. Moto. Tu in moto non hai mai corso, Rebecca? No. Ah, ti ho visto nel film Race, quello con Scamarcio. Race for glory. Anche tu reciti, fai una cosa, fai una parte. Sì, faccio uno dei personaggi femminili nel film, nella macchina dell'Audi. Eh sì. Sono la copilota di Esther Garrel. È vero. Ma dove ti alleni per quel tipo di gara? In Italia? Dove sei? Eh no, infatti mi alleno in Cile. In Cile? Ogni mattina vai in Cile. Ogni mattina vai in Cile e torna. Sì, in centro angolo. Posso provare anch'io. Un po' fadivoso. In Cile? Ma perché in Cile? Beh, c'è il mio ragazzo là. Ah, ecco. Ah. Che la faccia. Per amore si va in qualsiasi posto. Sì, sì. In Turchia. Sei mai stato in Cile, un gileno? In Cile, no. Quando ti fai a Punta dell'Este? No. No, sono stato in Cile. Sei stato a Punta dell'Este? Cile è stato, certo. Sono stato a Vigna del Mar. Vigna del Mar, certo. Tante vigne. No, Vigna del Mar. No, Vigna del Mar. Un festival importantissimo. È un festival. È un festival più importantissimo. È un festival più importantissimo. L'hai vinto? No, sono stato. No, avete pubblico. Ma tanto tempo fa? C'era Bardotti, Sergio, che era. Che meraviglioso, Sergio. Beh, un autore meraviglioso. È stato un gigantesco. Perché è stato un autore grandioso. Vigna del Mar era l'anima lui. Grandioso. Grandioso. Senti, Rebecca, di famiglia, no, c'è questa cosa dei motori, voi? Sì, mio padre correva in moto, ha fatto trarelli dei faraoni e mio zio correva in macchina. Quindi diciamo che sono cresciuta in questo ambiente. È bello. A benzina. Eh, a benzina. Senti, hai anche una laurea tu? Sì. In economia? Ho una laurea in economia e management e un master in international business. Ecco fatto. Capito, Lapo? Grazie. Un orgoglio. Sono tutte brave. Cioè, anche lei è l'orgoglio di papà Aldo e quindi Mariangela ha fatto l'attrice. Lei si è dedicata ai motori. No, ma non c'entra. È una famiglia. No, ma non c'entra. La giornalista Maria Luisa, insomma, avete dato grosse soddisfazioni in famiglia. No, ma tu sbagli ogni volta. Non c'entra niente. Anche Margherita si è ritagliata il suo spazio bui. No, ma non è che il suo bui è la cugina. Maria Luisa che diceva il TG. No, non c'entra niente. Quindi bravi tutti. Vabbè, non c'entra niente. L'eccellenza italiana. Non fa nulla. Comunque, la tua macchina con cui è corso l'ultima è la di un buggy. La mia? No, è come quella. È la di un buggy, praticamente. Ma questo no. È un buggy? Sì, abbastanza. Allora, facciamo così. Mandiamo questo video celebrativo degli Oliveronios. Vai. Oh, questo non ci piace. Hai visto la di un buggy? Sì. Modello un più moderno. Sai che quella macchina lì, quando è uscito il film ero un bambino. L'ho sognata tutta la vita. L'hai comprata? L'ho sognata tutta la vita. No, e ho scoperto nel libro che mostro qua, il sognatore, grazie. Grazie. Che è sua. Ma tu hai l'originale. Allora, aspetta, c'è una storia. Dunque, dopo il film, erano due le di un buggy nel film. Come no? Andò bruciata. E io ero lì a Madrid. Andò bruciata nel film? Era una scena. E io ho comprato l'altra. Me la sono portata a casa, abitando a Rocca di Papa. L'ho tenuta per circa un anno. Ma i reumatismi di questo braccio erano... Stavo così perché entrava l'area... L'ho venduta 40 anni fa. E aspetta. Poi nel frattempo, in Italia, sono sorte tante di un buggy originali. Sono tutte originali. Rosse, cappottino giallo. Ogni tanto io e Maurizio ne chiediamo qualcuna per fare qualche servizio. Tre settimane fa, vado a pranzo a casa di uno dei miei figli. All'ora di pranzo, lui mi fa... Papà, vieni un attimo fuori che ti devo parlare. Io ho detto subito... Mi sono spaventato perché uno dice... Mi deve dire con tutti gli altri... Vado fuori... Non andiamo dietro la casa. E io ho detto... Marco, dimmi subito che c'è qualcosa che non va. Dice no, guarda un po'. Vedo una di un buggy rossa col tettuccio giallo. Dice, pensa un po'. Questa è simile a quella che ho avuto io. Sei sicuro che fa? Beh, sì, è simile. Te ne stanno un'umila adesso. No, caro papà. Vieni qua. Mi tira fuori il libretto di circolazione. Era il mio con la mia firma. E ho detto, papà, l'abbiamo vista in una vetrina. Abbiamo certificato che era quella tua originale. Ed è giusto che torni a te. Te l'abbiamo regalata. Brava. Ma che bello, bravo. Bellissimo. Bella, bello. Bella di Djombaki, l'immensità. Mi ricordo l'immensità di Djombaki. Non ho capito, non c'entra. Non ho capito. Non c'entra niente. L'immensità di Djombaki. Mamma mia. Allora, ci vuole un minuto di gol del minuto. Abbiamo 50 secondi di piggio. Ci dobbiamo riprendere. Djombaki. 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 Eccoci qua. Ecco lì, ecco lì. Una marea di roba. Tanta roba, ci divertiamo tantissimo. Allora, voglio dire a Rebecca questo. La Djombaki del film è stata mitica per quella generazione che quando uscì altrimenti ci arrabbiamo. Abbiamo una clip proprio della scena mitica della Djombaki? Sì, ce l'abbiamo. Ma siccome il racconto di Guido è stato bellissimo, i figli che gli regalano la Djombaki, quella sua originale, no? Allora, volevo far vedere, per i più giovani, che cosa è stato per generazioni e generazioni. A parte è data in onda ieri sera al film. È data in onda, sì. Ieri sera era su, mi ricordo, Rete 4 forse c'era. Rete 4 è andato tipo 61-63. Ma io ogni volta, sai che ogni volta mi dispiaccio per la Djombaki che brucia. Se non l'avessero, ci sarebbe ancora. Adesso non ti ci porto, andiamo a far spazio. Sì, magari, magari. Guardiamola, Djombaki dedicato agli Oliver Onions. Ma anche te, Rens. Eh? Che meraviglia, ragazzi. Dunque, ma oggi Simone ha cantato, ha citofonato ai due. Allora. No, non solo io, eh. Eh, lo so, però adesso c'è, per fortuna c'è stata la Brexit, per fortuna c'è stata la Brexit già fatta. Esatto, però, eh, se no, certi siluri da Londra. Arrivava anche il siluro da Londra, però per fortuna la Brexit. Vuoi dire qualcosa? No. No, niente, abbiamo imitato le Spice Girls. Sì, sì. Ah, ecco, imitato. Sì, sì, ma uguali, 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 uguali. No, imitato. Meno male, non le fai sentire che mi scompisci un attimo? Ma a te piace tanto cantare. A me piace molto. Tu hai cantato con Baglioni. Sì. Certo. E si è ritirato. E si è ritirato. Ci sono altri cantanti. Si è ritirato perché si è distrutto. Ci sono altri cantanti. Le Spice Girls sono già ritirate. Ma c'è qualcun altro con cui ti ha fatto cantare? Pensaci. Mi piacerebbe tanto cantare Coloredana Bertena. Coloredana Bertena, ma lì l'hai già vista. No, beh, sì. L'ho già vista, ma lei... Allora, intanto vediamo oggi che cosa hai fatto. Va bene, vediamo. Va bene, ah. Vai. Brava. C'era Guido detto il tre che stava morendo. No, no. E le lacrime agli occhi ancora. No, no. Mi fa ridere. No, mi fa ridere. Non la faccio ridere. Guarda, stai attento. Vieni a cantare con noi. Ma quando ti pare, invitami, vengo subito. Sì, sì. Vai, che siamo anche a Roma. Ah, meglio, meglio. È più vicino. Cosa gli hai detto per farlo ridere così? Ma io niente, ho detto che ne cuccano una ogni tanto. Mi ho detto che non ne cuccano mai una. Nota. Ho detto ogni tanto ne cuccano una. Ma chi erano le altre? Chi erano? Allora, erano. Va beh, Paola, Pere, come vicino a me. Sì. Poi, Rosanna Lambertucci. E che spice era la Lambertucci? Cazzo, la Lambertucci. Non riusciva a capire perché faceva così e continuava solo così. Non capiva che spice è. La spice prende in visita. Io forse la racchettiva. No, la Veronica Maia, la sua proposta è Giulia Elettra Gorigori. Che è che è venuta l'altra Lambertucci? La Lambertucci, ragazzi, ne mollava. Sì. Certo, ho sentito. Scusa Gianluca, un'altra domanda avevo da farti. Perché le agenzie immobiliari. Mi ha detto, questa qui, cazzo, canta. No, ma io, a me spiace ridere perché amo molto Simona, però la sua passione del canto. Ma io l'amiamo per quello. Non è, io l'amo follemente perché non è cucca, cazzo, becca una nota. No, è troppo. Non è vero. E poi, allora, mi piace cantare le tante. Però è migliorata. Però c'è tanta passione. È migliorata tanto. È migliorata tanto. È migliorata tanto. È migliorata tanto. È un po' troppo severa. No. È un po' troppo severa. È migliorata. Io se ho stato una puntata due anni fa, ho notato un escalation. Un escalation. No. Un escalation. Ma perché? Sono serio. Cioè, l'ho trovata migliorata. Ma la passione vince su tutto. La passione, brava Simona. La passione vince su tutto. Allora, io volevo dedicare a Gianluca. Che è l'idolo mio di Giovanni. Bravo Gianluca. Ah, ma devo dire una cosa importante. No, di Rebecca. Tu hai corso con il casco arcobaleno. Sì. No, ragazzi, questa è una cosa importantissima. Perché Dakar. Sì, dal primo anno che ho fatto la Dakar nel 2022. Non è che esattamente sono contentissimi quando si gira con il casco. Credo che sia ancora un reato l'omosessualità. Sì. Quindi, voglio dire, girare con un casco arcobaleno. Brava. L'aveva fatto Hamilton. Brava. Anche Hamilton fece una cosa. Brava. Bravissimo. Guarda, guarda la foto. Eccola qua. In realtà adesso è il regolamento della FIA. Non è più vietato adesso mettere messaggi politici di qualsiasi. Malissimo. Molto brutto. Peccato. Spero che ci ripensi. Senti, volevo dedicare a Gianluca Torre invece che a questo. Lui ha questo modo, Lapo, di presentare le case dove nulla si chiama come lo chiamo io a casa. È un innovatore. Sì. Il tetto lo chiama Roof. Come? Roof. Come un cane. Roof, vieni qua. Come un labrador. Roof. Vieni. Cioè è tutto... La doccia, quella senza piatto doccia, come si chiama? Beh, la doccia walk-in. Come? La doccia walk-in. 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 Si scivola. Walk-in. Si entra scivolando, praticamente. No, non c'è il piatto doccia. Ci sono le... E allora cosa facci? Cadi? No, c'è un piastrello e fate... Vabbè, dico walk-in perché è quelli fuori che ti vedono che schiungi. Eh, walk-in. Allora, walk-in. Ma sei di gomma. Allora, io... Ma Gianluca è un mito della televisione, è un idolo. Allora, Casa Prima Vista, vogliamo... Tu che ci tieni tanto... Fai tu, presenta tu questo video qua. Tanta, va. Gianluca Torre è il fenomeno di Casa Prima Vista. Abbiamo voluto dedicare a queste immagini a veramente il nuovo innovatore delle case in Italia. Comprereste anche un water da lui, vediamo. Ma non può. Sì, sì, sì. Piacere Gianluca, ma è un piacere. Noi dobbiamo capire quelle che sono esigenze improrogabili e quelle che sono dei nice to have. Mi piace colpire le persone attraverso delle esperienze sensoriali. Ho scelto un cd particolare, flamenco chill out. Uno dei plus dell'appartamento, l'impianto di home theater integrato. I servizi tutti hanno una walking distance. Walking distance. Non mancava a walking distance. È già finita? Eh no, abbiamo altre sorprese. Siamo al di sotto del vostro budget. Ti dirò di più, che sono ancora un filo trattabili. La casa che abbiamo scelto è quella di Gianluca. Ragazzi, grazie. Regalare un sogno è la cosa che mi gratifica di più. Bravo, Gianluca, dimmi. Dicevo che a proposito di nomi, Gianluca Tower lo può confermare. Più che water, noi parliamo di exit room, cioè a dire room dove uno può dare libero sfogo a quelle che sono le sue esigenze. Exit room o anche water per il nome più comune. Però confermi? Dovrei cominciare a cogliere dei termini da te. Adesso stasera sono qua proprio per aggiornarmi. Poi vi capite. Ci aggiorno. E mi aggiorno. C'è però un gergo nelle agenzie che è molto divertente. Io vorrei fare un attimo di servizio pubblico e aiutare il pubblico che ci segue. Quando dite zona tranquilla, appartamento in zona tranquilla vuol dire che hai margini con la foresta. Cioè vuol dire zona tranquilla e margine con la foresta. No, ma allora bisogna dire, non bisogna scrivere cose overpromising, altrimenti, non bisogna negli annunci scrivere cose overpromising, altrimenti. I rivali degli Oliver Onions, ti ricordi? Inizialmente erano i rivali degli Oliver Onions. C'erano gli Oliver Onions e i promising. Bravissimo. Gli overpromising erano i rivali degli Oliver Onions. Cos'è? No, dice che non devi promettere quello che non mantieni. Altrimenti fai visite inutili. Non puoi dirla così, che la capisco lo tu. Ma sì, era carino, insomma. Ah, ma perché fa... Ecco, poi diciamo un'altra cosa. Quando c'è scritto balcone vivibile, vuol dire che ci sta un tavolino. Però se c'è il tavolino non ci stai tu. Se ci sei tu non c'è il tavolino, giusto? Giusto. Distinguiamo, insomma. Calma assoluta, appartamento calma assoluta, vuol dire muro di fronte. Cioè sei in un cortile, con un muro di fronte, non vedi nulla se non il muro. E non c'è nessuno, perché nessuno ci va lì. Beh, insomma, no. Ci sono delle terminologie, secondo me, da cui stare un filo attenti, no? Tipo da personalizzare. Vuol dire che l'appartamento è stato colpito da un ordigno. Da un ordigno. Una bomba. Ed è totalmente da rifare. Secondo me, il termine più scivoloso è predisposizione. Cioè, quando leggete predisposizione di qualcosa, vuol dire che non c'è. Vuol dire che non c'è. Ah, che potrebbe essere. Sì, predisposizione all'altro. Predisposizione è sempre un po'... Senti, va ancora di moda l'idromassaggio? Meno, non tantissimo. Ma non c'è una buona notizia, una buona notizia. Poi c'è, no, in Liguria la cosa più bella è parziale vista mare. Che vuol dire che se con un gioco di specchi, con un gioco di specchi, riesce a intravedere una cosa azzurra che forse può essere il cielo o può essere il mare. La parziale vista mare. Beh, bello. Eh sì, beh, insomma, bisogna cercare di essere abbastanza attrattivi senza, come dire, raccontare delle frottole, no? Senti, ma tu nella tua vita che cosa hai venduto Gianluca, di cose strane? Di, ma... Case enormi, so che hai avuto richieste incredibili. Abbiamo, sì, allora, diciamo che... ho avuto delle richieste particolari di metrature piuttosto importanti, quindi magari qualche casa con la piscina interna, con il nuoto controcorrente, ad esempio. Certo, ma quella anch'io ce l'ho, è comodissima. Anche il campo da padel. C'è chi chiede il campo da padel. Adesso va di moda a chiedere il campo da padel. Ottanta metri quadri con campo da padel. Però in centro a Milano, quindi... Centro a Milano, come non trovarlo. Addirittura qualcuno chiede il bunker. Il? Il bunker. Antiatomico! Il bunker, no, no, allora, andava di moda, mi dicono, negli anni Ottanta, io, grazie a Dio, facevano. È tornato un po' di moda post-Covid. Quindi avere una zona un po' riservata, un po'... Dove non ci... Qualcuno lo chiede. Il bunker. No, è brutti periodi. No, è peribili, non mi piace. Signora Coriandoli, lei... Guarda, ha iniziato tutto con l'outfit. Chi? Le parole inglesi. Ah, le parole inglesi. Ma lei le guarda le case... Guardi, un ragazzo così raffinato... Ecco, come Gianluca. Che rimane fine in tutte le stagioni, mi fa proprio venire in mente una gran bella storia d'amore. Oh, che bello. Allora, la Matilde è a Riedo. Chi? A Riedo. A Riedo. A Riedo. È un nome molto diffuso, Bagnacavallo. Bagnacavallo, non lo so, però... Anche a Russi, Ravenna, si trova. A Riedo. A Riedo. È un paese... No? Il segno strategale. È un individuo. È un individuo. Ah, è un... È il marito della Matilde. Insomma... Ma sa che lui è un po'... Appassione... Sa che lui... No, no. È un americano. Capisce. Salvatore, Tomano... È Ariedo, Ariedo. Anche Ariedo. Uno che si chiama Ariedo. Ma hai sentito... Ariedo ti amo, è orribile. Ariedo. Ma infatti lei non gliel'ha mai detto che lo ama. No, lei non l'ha mai detto. Se n'è guardata la Matilde. Quelle lì. Appassionati di case... Sì. Hanno un posto in centro a Bagnacavallo... Tutta a Bagnacavallo? Che è sulla... È una città che acquisisse anche importanza. Allora, ci racconti tutto... Un continuo sviluppo! Ci racconti tutto della casa di Ariedo? È una casa importante, intanto è sui cento metri. È. Ha due bagni, quattro camere... È bello. È molto raffinata. Bene. Buono. L'hanno presa, l'ha fatta Ariedo, nel 71. Eh, va bene. Però lei si è fissata... È una gran bella casa perché ha due bagni... Sì, abbiamo capito, signora. Lo sciapone in tutte e due. Lo sciapone in tutte e due, certo. E però, lei voleva rinnovare la carta da parati, tutta fiorata, del 71. Era anche ora. Ariedo ha un carattere... Come Paolo Antonio? Diciamo la verità. È tirchio. No, io non sono... No, tu parlavi di aggressivi, non sono tirchio. Non io. È molto tirchio, si impunta con questi fiori, ha detto, a me piacciono, ma sono tutti sviaditi. Sono del 71, sono appassiti. Sono un po' sfioriti, un po' appassiti. E allora lui si è impuntato. Bisogna stare attenti a contraddirlo perché lui ha anche il problema della pressione. È certo. Perché là un po' alfina... Che prende alta la pressione, mi ha straordinato. Sì, quando è 2.30... 2.30? 2.30? Muore. Vabbè, può succedere. Fa un fischio dall'orecchio, fa pii... A 2.30 fa un fischio dall'orecchio. Sì, dall'orecchio e la matiglia dice, è pronto il tè? No, non è il tè. È come della teiera. No, ho capito, invece è a riedo. È a riedo. Allora è andata da un professore di Modena. Sì. È proprio sulla pressurizzazione. Sulla pressurizzazione. Sulla pressurizzazione. La pressurizzazione. E ha detto che deve fare le punture quattro... Si può dire le punture? Sì, punture si può dire. Quattro volte a settimana, allora lei ha preparato tutte le bottigline nel frigo. Deve stare in frigo. Sì. Poi fa bollire sempre questa siringa. Bollire la siringa? Ma è una cosa di 71 anche quella? No, è molto antica. Ma qui c'è un quello di plastica, usa i geni? No, non le facciamo, non le usiamo, non ci fidiamo. Ma chi noi... Inquinano. Inquinano. Se il suo ago... Ma sarà un ago del 72 o un'arma? No, è dell'80. E vabbè, ho capito, è dell'80. No, è ancora nuovo. È nuovo, dell'80, un ago dell'80. Ma sentirà male, scusi. No, è un po' spuntato. Ma farà malissimo. Ascolti, di bello che ha questo tocco della mano. No, ma farà malissimo. Ha un po' il braccio indolenzito. Ma non lei col braccio, lui dico, poverino. Lei è un po' indolenzita, anche lui perché... Eh, appunto. Però va come il burro, va dentro come il burro. Vabbè. E dopo fa queste punture. Eh sì. E un giorno lui è fissato. Come tutti gli uomini, vuol mangiare all'orario. Eh. Si impunta a un carattere come lui. Eh, come lui, sì. E allora voleva il brodo a tutti i costi. Il brodo. Il brodo. Oggi voglio il brodo. Non può contraddirlo perché gli va su questa pressione e comincia a fischiare. Sì, certo. E allora ha detto, va bene, vuoi il dado? No, il dado no. Il dado non lo vuole perché adesso ci mettono quella pomata. Come si chiama? Quella pomata nel brodo. Non è pomata, è glutammato. Glutammato. Non è una pomata. Noi siamo contrari. No, ho capito, ma non è una pomata. È una pomata, tipo una pomata. Però lui non la vuole. Si è fissato, allora lei gli ha fatto, gli ha messo su l'acqua e poi gli ha messo il manzo, la galina, la verdura. Ha fatto il brodo di carne, è bello. Tutti i brodo di carne. Buono. Dopo ha fatto, perché dopo non lo fa tutti i giorni, una volta il signore si mettono in vantaggio, si dite. Ha fatto tutte le bottigline, le altre le hanno numerate una, due, tre, quattro e anche lei ha fatto uno, due, tre, quattro. Ha numerato le bottigline per così. Perché colizia le aveva tutte la settimana. Brodo della settimana. Quando è arrivato il momento che lui fa quegli occhi diventa un po' buato. Al momento di che cosa? Il momento che lui verso mezzogiorno gli sale la pressione. Che deve farla quattro volte. Ah, la puntura, scusi, l'iniezione. Due la puntura, due volte la mattina e due volte il pomeriggio. Lei lo vede perché diventa, quando inizia a pompare, inizia a fare gli occhi così, è un po' viola. Ha detto il professore e ora gli ha fatto sta puntura. O lei si è sbagliata, o non lo so che cosa è successo nelle bottiglie. Lui è andato a mettere le mani, lui mette le mani dove non deve. Se fa così, fa queste cose. Morale, è diventato sempre più rosso, si sentiva un grano d'ur di brodo. Lei gli ha fatto sta puntura e si sentiva un grano d'ur di brodo. E' iniziata a fischiare, fischiare, fischiare l'orecchio. E un certo momento è partito come un rato. L'han trovato nella cappa del camino. Boom! Esploso. E' esploso. Ha fatto iiii e è andato nella cappa. Un palloncino, un palloncino. Un palloncino. Lì per lì sembrava che fosse finita male. Eh, ma sta meglio adesso? No. No. Come no? No, è successo che fortunatamente lui adesso è andato per il camino, non si sa. Ma, però, la cosa bella è che lui pigliava una bella pensione. Ma è morto? È morto? Diciamo così. È distrutto. Diciamo così. Doveva morire lei? No. No, se è morto lui, un po' dispiace. Ma non ho capito perché è bella la storia. No, è bella perché dopo lei ha contifatti, lei si è fatta quel pianto così. Dopo, è successo che lui prendeva una bella pensione. Sì. Eh, certo. Lei ha avuto l'integrazione, ha cambiato la carta da parati. E tutti vissero felici e contenti. Brava signora Coriandoli, pubblicità. Scusate, arrivo subito, Max, vengo subito da te, ma tu non hai la patente. Io, patente, macchina, ho avuto tante macchine, tante moto, soprattutto io sono un discreto motociclista. Che vuol dire discreto? O sei motociclista? No, discreto nel senso che per umiltà resto umile, ma sono un buon centauro. Sono due ruote davanti e quella dietro. Ho avuto un sacco di moto, sono un motociclista. Ma hai la patente o non hai la patente? Certo, come potrei guidare? Ma tu guidi l'automobile? Certo, certo. Non ti ho mai visto? Perché non è che venga a Milano con l'automobile, venga a Milano col treno, con l'aereo, è lontano. Ma non ti ho mai visto guidare? Ma non mi hai mai visto perché non vieni mai a Napoli? Ti ricordi quello che abbiamo fatto insieme tanti anni fa un programma a Venezia? Certo. Non guidavi? Ma io venevo a Venezia con la mano. No, per dire, però non guidavi. Non guidavo la compola. Ma con questa voce riesci a guidare? Con questa voce riesci a guidare? C'entra, ma sì. Cristiano, tu andresti in macchina con Francesco? Con i comandi vocali. Andresti in macchina con Francesco? Ma neanche è morto. In moto? In moto? Ah, forse in moto sì. Vedi? Perché mi danno... Comunque stiamo pensando di comprare casa insieme a... A Istanbul. A Istanbul. A Bosporo. Perché tu hai una casa bella grande, ho saputo. A Istanbul. Sì. Sul Bosporo. Allora, poi lo dividiamo. Ti rimane così la voce ormai, per favore. Ti rimane così la voce. Quarta edizione consecutiva condotta da te. Sì, sì. Allora, raccontiamo il meccanismo di Boss in Incognito a Lapo. Beh, c'è un boss che praticamente entra sotto mentite spoglie e come fosse, diciamo, un praticante, una persona in prova e c'è un lavoratore di questa azienda che gli fa da tutor e non sa che lavora invece col suo boss, col suo proprietario, capito? Questa è un po' la chiave, col suo datore di lavoro. Ma Max ci ha abituati a scelte provocatorie, cioè far inserire un boss della mafia nella società attraverso le aziende, è lodevole ma anche provocatorio. Boss in senso di capo. Perché è giusto che quando uno cade si rialzi legalmente, lo facci, è giusto, però mi sembra un po' troppo. No, ma il boss vuol dire il proprietario dell'azienda, il boss. Il capo, il capo. Questo non so se si può fare. Non so se si può ossidire, però va bene. Domani ci dai l'anticipazione. Qui sul tre c'è più libertà, forse sul Rai 2 non so. No, ma non siamo. No, noi siamo sul nove. C'è anche il direttore qua. Non è il direttore. Siamo la stragrande. No, il tre, lui si chiama il tre, non è il direttore del nuovo. Visto che canta, è bravo. Grazie. Noi siamo sul nove. Lui si chiama il tre. Ci arriveremo. Intanto partiamo, rimaniamo qua, stiamo facendo bene, il pubblico ci segue. Va bene, fa niente. Ma secondo te dove siamo? Allora, Milano perché... No, su che rete siamo? Io ero rimasto a tre. No, siamo sul nove. Lui non è il direttore del direttore. Tre per tre, nove. Rimane la realtà dei fatti. Mi arrendo, mi arrendo. Dunque, ci anticipi Max di domani? Bravo Max, davvero. Grazie. Oh, bene. Grazie. Aiuto, ci anticipi qualcosa? Ma domani si parla di tartufi, quindi... Ah, buono. Andiamo a... Incontriamo questa azienda di tartufi che è proprio nel cuore della Valnerina e scopriamo un mondo. Tra l'altro, domani succede una cosa che non mi era mai successa. Cioè? Che all'inizio, proprio del... Quando si scopre che, diciamo, di fronte a sé il lavoratore c'è il boss, in realtà questa ragazza ha lavorato con me, davanti al boss la riprende per due piccolezze, questa impazzisce, dà di matto e ci molla e se ne va. E ne fa di ogni, però è stata sfortunata, fortunata non è successo niente di grave, dopo è tutto rientrato, noi avevamo le telecamere proprio dove era lì e si vede proprio una... una cosa che non è mai successa a boss, ma quello che voglio dire, e voglio dire una cosa bella, che mi viene in mente adesso, questa settimana mi ha fatto una puntata bellissima sulla pizza, no? Qua su una catena di pizzerie. Ma io adoro i tartufi. Sì, sì. No, ti dico una cosa, c'erano cinque ragazzi... La patana no, io t'artufo sì. No, la patana... La patana no, io t'artufo sì. Insomma, volevo dire una cosa... Tubero e tubero. Eh certo, un tubero sì o no. Volevo dire, abbiamo avuto dei ragazzi giovanissimi che lavorano, fanno dentro... fanno qualsiasi cosa dentro questa catena, di chi fa la pizza, chi fa il cuoco, chi fa il cameriere, chi rassette, ma delle storie di ragazzi veramente in gambissima, tra l'altro, cioè ti posso dire, erano tutti ragazzi napoletani, tutti ragazzi straordinari e è stato bello far vedere che poi Napoli è quella, cioè l'eccezione è l'altra. Cioè, quando ho visto questa puntata, raccontiamola di più. No, il boss è un'altra... C'è un'altra cosa, non c'è. Allora, vediamo un'anticipazione di boss in incognito, ma andiamola in onda. Grazie mille. Rai due domani sera. Così è quella dei tartufi che piacciono... Tartufi che piacciono a Cristiano. Carino, molto carino. C'è tanta gente in gamba, che non si lamenta mai, che si sveglia al mattino a lavorare. Si conoscono tante storie belle. Tante storie belle, veramente belle, belle. Molto, molto bello per me fare questo programma. Senti, sai che Cristiano Malgioglio dice che la tua imitazione di Malgioglio era la più... Perché lui è imitatissimo da chiunque. Sì, dai. Ma dice che la sua è la più bella di tutte. Sì, è la più bella di tutti perché io mi ricordo nel periodo in cui lavorava con Simona quel che è il calcio. Il calcio con Simona. E naturalmente ha messo sempre in evidenza il personaggio di Cristiano Malgioglio perché non è stato mai volgare. Mai. E mai. C'è stato meraviglioso. E tu sai, noi siamo amici da tanto tempo. E naturalmente mi piace molto perché lui inventa poi tutto. No, perché invento un po'. Mi diverto. Guarda, guarda cosa... Ti piacerebbe se ti facesse un attimo un'imitazione? Ma certo, adoro io. Abbiamo due imitatori di Malgioglio a questo tavolo. Ma io queste piume le porto soltanto a tale e quale sciò. Sì, ma facciamo un attimo di tale e quale sciò. Non avremmo mai pensato che tu portassi le piume fuori a tale e quale sciò. Ma che volta capita? Guarda, per fare Cristiano, basta sbottonare la manica e metterla qua. Guarda, veramente. Sono stato bravo. Pensa tempo fa. Perché quando imiti Cristiano... Cristiano, scusa, c'è il microfono? Ah, sì, scusa. Mi stavo strozzando col boa che è vivo probabilmente. Ecco, dicevo... Una volta, sai, amo tanto Cuba. Lui ha sempre a Cuba un periodo di tempo. E si è cambiato. Io adoro Cuba, sì. Lui adoro Cuba perché ama l'arte. Sa perché vado a Cuba io? Temo di saperlo, sì. No, per il cubismo. Certo, il cubismo. Il cubismo. Il cubismo. E veramente, una volta abbiamo questo festival a Cuba e ho portato come Sandy Martin, veramente. Chi ha portato? Sandy Martin. Sandy, non Sandy. Sandy Martin. No, Sandy Martin vuol dire Sandy. Sì, perché Sandy Martin. No, Sandy, Sandy. Sandy, Sandy Martin. No, Sandy Martin. Praticamente eravamo caldi. Avevamo fatto, perché fa molto caldo, ci eravamo esibiti in questo festival, veramente a Lavana, che poi i francesi la chiamano Beige. Praticamente eravamo là, eravamo là, avevamo molto sudati, ci hanno fatto rinvrescare. E Martin si rinvrescava. io pure, finché l'ho guardato, gli ho detto, Sandy... Sandy... Sì, c'è un'altra. Prego, Francesco. Io? Eh. La settimana scorsa... Scusa, a sto punto... La settimana scorsa non hai fatto l'imitazione? Beh, sì. Eh, prego, prego. Eh, non è mica facile, se... Ah, ce li aveva, scusate, troppa generosità. Eh, vabbè. No, no. Questo non c'è, questo è sbagliato. E' sbagliato, non c'è. Questo è il vizietto. Fai tu che parli al mattino col ciuffo. Che gli dici al ciuffo? Ah, ma... Ciao, ciuffo! Buongiorno, ciuffo! Questo è olio. No, perché la voce è un po'. Oliver Adi. Buongiorno, ciuffo! Buongiorno, ciuffo! Senti, a me piace... Non mi piace la patata. Ha vinto Max Giusti! Ma mi piace tanto. Basta. Però è vero, che tu parli col ciuffo è vero. Sì, io parlo con i miei capelli. Sì, no, è vero, è vero. C'è Guido che è scioccato. Quando ho conosciuto io Malgioglio, aveva una testa di Ricci. Me lo ricordo. Me lo ricordi. Quando cantava Sbucciami, me lo ricordo. No, io prima l'ho conosciuto. Prima, all'inizio. C'era la mia carriera. Io parlo con i miei capelli, lo sai? Sì, cosa cazzo? No, non appena mi vedi. Mara, per favore. Adesso si risponde. Era talmente fuori dai... Ma perché non posso parlare con i miei capelli? Ma non fare quello che vuoi. No, non dico. No, non dico. Ma quando... E che i capelli gli rispondono. Eh, sì. Nino ha chiesto se ti rispondono. No. Guarda questa foto. Guarda con i vazzadichi. Guarda come sei. No, mamma mia. Mi assomiglia però. Sì. Sei una specie di... Sembra io con la parrucca. Sei una specie di cugino di campagna. Guarda, guarda, guarda. Guarda una cosa. Come so? No, mamma mia. Guarda come ride i tre. Lì avevamo vinto il Festival di Sanremo. Eh sì, 74. Con ciao cara come stai. 74. Che bella emozione. Giusto? Sì, nel 74. 74, l'anno di Dumbaghi. No, facciamo una foto al massimo. L'anno di Dumbaghi, 74. Eh, 70... Sì, 74. Eh, oh ragazzi, un anno pazzesco. A proposito di Oliver Onions, volevo dire ancora una cosa. Sai che mi è venuta in mente una cosa? Potrei cantare Gianna Nannini, una mia amica. Ecco. Vero. Ma adesso? Non ho capito. Adesso? Adesso? No, no, adesso. Ti piacerebbe cantare Gianna Nannini? Molto. Beh, un'amica di Mara, amore. Come amica? È stato sul discografico. Sul discografico operato. Esatto. Ma vogliamo avvisarla o lo facciamo a sorriso? Io direi che... No, ma la Gianna si diverte. Eh, no. È contenta, è contenta che la ricorriamo. Canta... Ma perché, scusa, deve smettere anche lei di... Si ritira? Come? Dico, Gianna si ritira? No, non so. Siccome lei ha fatto ritirare Baglioni, dico, se canta la Nannini... No, ma se canta la Nannini possiamo invitarla, così la... Canta insieme. Ma perché? Ma grazie, Mara. Eh. Che fiducia. Ma perché io, devo dirti, mi diverto troppo. Non posso perdere. Va bene, ci pensiamo, ci pensiamo. Sì. Ti aspetto ancora una volta. Scusami. Parla come vuole Antonio. Io vorrei che tu invitassi Pedro Almodovar. Pedro Almodovar. Ci ho pensato. Per favore. Mi è venuta un'idea. Ecco. Lo faremo. Lo faremo. Ricordiamoci perché lo faremo. Ci ho pensato. Allora, lo faremo. Guido, abbiamo il Golden Minute adesso. E poi voglio parlare di Sandokan. Vuoi parlare di Sandokan? Sono molto contento di essere qua. Capir Bedi parla così. Parla così. Capir Bedi. Mia mamma chiamava lui. Capir Bedi. Grazie. Molto contento. Abbiamo il Golden Minute. Stavamo parlando con Guido De Angelis, di cui mostro ancora una volta la copertina di Il Sognatore Mondadori, l'autobiografia emotiva della carriera musica e tanto altro, episodi di vita, anche intensissimi, devo dire, di Sandokan, che è stato un trionfo. In questo paese c'era la sera, la domenica sera mi pare andasse in onda, quando arrivava Sandokan sul televisore si sentiva intanto che c'era un urlo pazzesco, la sigla, ma poi quella sigla è diventata iconica. Allora facciamo così, vi faccio vedere un pezzo di sigla, poi se volete dirige Simona e facciamo il karaoke, cioè voi fate il karaoke con Simona che canta, va bene? Provate a cantare. Eh certo. Ok, intanto mandiamo l'RVM Sandokan, vai. Cosa era successo a Madrid nel coro di Altrimenti ci arrabbiamo? Ah, al Bobo Bobo. Al Bobo Bobo, famoso Bobo. Ah, l'hai letto del libro. L'hai letto del libro. No, che quel coro, la 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 la, mentre giravamo, quella era l'Accademia di Musica Sinfonica vera. Ah, vera Accademia di Musica Sinfonica. Sì, sì, il produttore aveva affittato questa accademia con il coro, quello faceva musica classica, però io mi presentai lì e gli insegnavano di fare c'era la direttrice del coro, una signora piccolina, la direttrice del coro, che camminava e mi guardava con l'odio. A un certo punto Bud Spencer mi fa, senti Guido, la vedi è la vecchia, mi fa, guarda Guido, la vedi che quella ti odia? Quella è abitavata a fare bacca, tu sei venuto qua e gli hai detto fate la la la, boh 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 boh, per rendere conto che si fa, allora dice beh perché lo so, se mi odia che posso fare? Se ti offro un caffè non te lo prendere. Se l'abbiamo l'RVM del coro? Lo vediamo questo momento storico, dai. Il coro di Madrid dove la signora, come l'ha chiamata Bud? Eh, la vecchia. Ecco, ecco là. Allora vai, vai col filmato. Mi fa piacere ricordare tantissimo Bud Spencer, tantissimo. Guarda che era una persona... Menavigliosa. Sì, ma abbiamo fatto degli scherzi allucinanti con lui e con Terence Hill e anche con il produttore, quando abbiamo fatto per esempio Flying Through the Air. Sì? Eh, c'erano due produttori, uno che sapeva che facevamo uno scherzo. L'altro no. L'altro no. E allora, sì, lo scherzo. E a un certo punto, fatemi sentire il tema di Flying Through the Air. Allora io e mio fratello avevamo preparato, un'ora prima, una registrazione così, con una chitarra. Blah, blah, flying, flying, flying through, flying to the air, flying to the air. Da 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 da. E questo si è già preso un punto. Allora, Zingarelli, il produttore, d'accordo con Bud Spencer, che sapevano la verità, bella, bella. L'altro produttore diceva, ma siete pazzi? Ma che facciamo? No, aspetta. Together. Avevamo registrato, io e mio fratello con la chitarra. La chitarrina. Un'ora prima, una cosa. Flying Through the Air. Invece, guardate l'originale, Flying Through the Air, quello è diventato un successo anche quello, internazionale. Tu te lo ricordi? Certo, te ne ricordo. Vai, guardate come erano vestiti. Voi avete avuto la magia di fare della musica che è stata amata non soltanto dalle persone di una vecchia generazione, ma anche della nuova generazione, perché la vostra musica è entrata veramente nel cuore di tutti noi e siete state veramente straordinarie in questo. Grazie. Bravo, bravo. Bene. Oh, Rebecca. Rebecca Musi, prima mi ha detto, ma tu sai anche riparare l'auto? Sì, mi ha detto. Sì? Diciamo che... Sì, cambiare la ruota se serve. Beh, alla Dakar non abbiamo assistito. No, a Dakar no, dico nella vita. Beh, nella vita sì. Sì, no, io no, cioè, io per dire, io non ci provo, ne chiamo subito. No, cambia la ruota. Tu chiami, sai cambiare la ruota? Sì, cambia la ruota. A parte che non ci sono più le ruote di scorta. Non ci sono... Hai molte macchine, soprattutto quando le prendi a noleggio. C'è il ruotino. Io adoro. Sì, sì, ho cambiato anche una macchina pesante, perché noi siamo una vecchia generazione. Quella è la più facile. Io non avrò la patente, però so cambiare le ruote. Perché? Veramente, io sono un bravo meccanico. No, Mara, è vero. Le ruote qua. No, tesoro. Ma perché uno che non ha la patente... Ma che fai, rubi le ruote in giro? No, so cambiare le ruote, perché sono capace, perché sono un meccanico. È manuale, gli piacciono i lavori manuali. Ti piace cambiare una ruota? No, adoro. Bravo. Metti che voglia fare da navigatore. Eh? Metti che voglia fare da navigatore. Vuoi fare il navigatore? Ma qualche volta ci penserò, magari. Soffre il mare. Anche io soffro le dure. È il gattore. Soffre il mare, ma molto lì. Dunque, Guido, dimmi tutto. Sei sconvolto? No, io a quest'ora già sto a dormire solito. Di solito? Sì, anche noi. Sono un giovane vecchio, quindi sono un po' a dormire. Non ci posso credere che a quest'ora sia a dormire. No, 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 davvero. Bravo. Sto cercando di... Senti, vogliamo dare le date del tuo Fragili Tour? Ma magari. Ce l'abbiamo la schermata con le date. Comunque diciamo che... Guarda, dillo tu. Vai. Lo devo leggere qua? Beh, se non le sai a memoria sì. Allora, ragazzi, ci vediamo. 14 giugno al Nameless Festival. 13 luglio a Gubbio, Wanderless Festival. 27 luglio Gallipoli. 7 agosto Zafferana et Nea. Sicilia. Sì, esatto. Sicilia. 16 agosto Olbia, Red Valley. Molto bello. Bellissimo. 23 agosto Romano Dezzelino. 14 settembre Cuneo. 15 settembre Milano. Quindi se volete, ragazzi, siete invitati. E 9 novembre Palazzo dello Sport di Roma. Bravo. Bravo. Hai visto? Sembrava la sapesse. L'ha detta così. L'ha detta così perché sembrava la sapesse. Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Lapo, dimmi pure. No, no. Tutto bene? Penso sia, penso che nonostante non ti piaccia quello che hai detto, comunque tre è tubero perfetto. Per te che non ami la patata, comunque il tubero perfetto è il tre. Bene, molto bene. Senti, ma tu Guido hai fatto? Max l'ha capita perché tu la mette anche il tuo cuore. Guido, tu hai fatto freestyle da Fiorello? Sì, mi ha passato questa mano. Su Vivere 2. Esatto. Ma qui si potrebbe fare un freestyle su questo tavolo? Ma oddio, cioè sì, perché no. Ci si può provare? Guarda, se vuoi ti do i nomi di tutti i presenti. No, ma vado a braccio. Vado a braccio così? Eh vabbè sì, è una roba molto easy. Sesso, vado, vabbè. Ok. Ah, è con grande orgoglio che condivide il tavolo con mi cugino Malgioglio. Ah, la vita a volte è amara, però è meno amara come sorella amara. Ah, gelato doppia panna, so che mi sta guardando, mando un bacio a mia mamma. Ok, se ne sta monà. Un grande applauso dal pubblico di che tempo che fa. Amore. Ah, così. Carino. Così. Eh, bello, bello il linguaggio ci sono detto. Bello, bello. Se volevi potevo fare A, io. Alla prossima, magari. Ok. No. Tu hai conosciuto Cher, anche, nel libro, sai che lui ha conosciuto Cher? No, non ci credo. Io amo molto. Lui ha conosciuto. C'ha scritto nel libro. Sì. Dove vi siete conosciuti? Racconta. Era al Piper Club a Roma. Al Piper, a Roma. Era una delle prime uscite che suonavamo noi, un'ora noi, poi suonava C'era Patti Bravo, con i primitives, e allora, a un certo punto, un giorno stavamo cantando, I Got You Baby, I Got You Baby, mentre cantavamo, sempre con enfasi, I Got You Baby, io cantavo sempre più incavolato, così, suonavo l'organo, a un certo punto, vedevo una ragazza stupenda laggiù, di sotto, che mi mandava un sacco di baci, ma era proprio bella, bella, alla fine era, I Got You Baby, fermo tutto, e comincio a scendere per le scalette e andare sotto al palco, Maurizio, ma dove vai? E il Maurizio attacca un'altra cosa, ma da lui, da, 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 satisfece, io vado giù di corsa, lei viene di corsa, io l'abbraccio, la bacio, e a un certo punto, dopo un po' mi sento, uno piccolino, it's my wife, Sonny Bono, era Cher e Sonny Bono, non si sono arrabbiati, eh, meno male, ma che lei, ma tu hai anche conosciuto Cher? Sì, io l'ho conosciuta, l'ho anche intervistata per, quando lavorava uno mattina, e devo dire che è una delle donne più straordinarie, ma ti ha dato una ricetta, ma tu l'hai baciata? No, aspetta, aspetta, come l'hai baciata? No, l'ho baciata, lei gli ha dato una ricetta, una ricetta, ah sì? Sì, non è una ricetta con le patate, no, che ricetta era? Siccome verrò la settimana prossima, ti dico, la ricetta, che ricetta è? Una ricetta, no, 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 la settimana prossima, il riso? Ah sì, il riso con il latte, perché io all'inizio della mia carriera, la prima canzone che io avevo scritto in italiano era The Beat Goes On, e avevo chiamato il brano L'amore no, quando siamo andati in studio di registrazione, lei ha interpretato il brano, Sonny Bono no, perché aveva mal di gola. Come Pavlantone. Peggio, perfettivamente non poteva neanche cantare lui, poi siamo andati a mangiare insieme. The Beat Goes On? The Beat No, The Beat Goes On è il titolo della canzone, e lei aveva chiesto del riso con il latte. Sì, l'ho fatta il suo italiano. Ah, buono, molto buono. Ma non ho capito come finisce la storia. No, finisce, abbiamo mangiato lì, ma non è che lei era celeberto, ma allora. Ah, è finita male, è finita male, è finita male, ha riso con il latte perché fa bene alla gola. Però devo dire anche una cosa molto importante, che grazie a Simone Aventura io ho conosciuto il meglio, da Amy Winehouse, che lei mi aveva messo... E so anche l'altra chi? Eh, no, caro. Che c'ero anche io. C'ero anche io. No, tu non c'eri, con Amy Winehouse eravamo insieme e Simone mi aveva dato questo camerino e mi fa, tu stai con lei. Ed è stato veramente un poveriggio meraviglioso. Eh beh. C'ero anche io. Vedi quante azioni buone che hai fatto nella tua vita. Però potrevi anche dirgli che da lei c'è stata anche Lady Gaga. Sì, è vero, c'è stata anche Lady Gaga, è vero. È vero. E' vero. C'ero anche io. Ma sì, ma ti ricordi? Ma normale, la quale mi aveva chiesto di comprargli un ghiacciolo. Un ghiacciolo, è vero. Sì. No, è vero. Tu capisci, Guido, cosa ti aspetta? Tu sei all'inizio della carriera. Sì. Quando fra 20 anni verrai, a che tempo che fa, ci sarà un altro, naturalmente al posto mio che conduce. No, mai. No, no, te lo dico io. Tu, amore mio, sei straordinario. Sì, io sono vecchio. No, no. Ma che male. E ci sarà Malgioio che racconterà questa cosa qua. Ti vedo un po' seduto qui. Di Lady Gaga. Vero? No, tu sei vero. No, dico, ci sarà Malgioio che racconterà. C'è che racconta ancora questa cosa qui. Allora, mandiamo la pubblicità e poi c'è. Non mi raccontate queste cose, è la prima volta. È la prima volta, certo. Tant'è vero che mi chiedono di scrivere un libro, ma io il libro, ragazzi, non lo scriverò mai. Adesso ho un libro particolare, molto bello, che si chiama... Ma qui lo scrivi? Ma già è scritto. Ah, hai detto che non lo scriverò mai. No, ma non sulla mia vita. Ma non sulla mia vita. No, 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 non voglio parlare. Non voglio parlare. Allora, vieni a presentare da me, però. No, perché se dovessi dire tante cose, chissà quante querele mi arriverebbero, io voglio stare tranquillo. Allora lo presenti da me. Io lo presento da te a settembre. Come senti il titolo? No, 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 non lo posso dire. Dimi la prima parola. Comunque, eh? La prima parola. Gera una volta. Tulipani. Tulipani. Tulipani è la prima parola. Ragazzi, a me basterebbe quella. Allora, pubblicità e poi il direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Buonasera, serata Oliver Onions. Cosa ti diceva prima durante la pubblicità? No, volevo dire, lei, Paolo Antoni, c'è una grande richiesta. Sì? Rimanga sempre senza voce, perché è più successo. È più affascinante. Viene più fuori l'uomo. Molto più sensuale. Non sicuri. Cioè, faccio pena, praticamente. No, viene fuori l'uomo selvatico. Ah, sì? Sì, sì. Pensavo il contrario. Sì a sentire, abbiamo fatto un referendum. Meglio senza voce. Meglio senza voce. Risulta meglio. Beh, risulta meglio. Vabbè, credo sia un complimento. Cercherò di restare così. Credo sia un complimento. No, volevo dire una cosa ancora di Max Giusti, che tu sei a teatro, perché sta andando questo one-man show, Bollicine. Bollicine, sì. Sta andando benissimo. Sta andando molto bene, le anteprime sono state bellissime. E dall'11 di aprile siamo al Sistina per due settimane. Veniteci a trovare. È bello. È una sfida a chi dice che col political incorrect non si può più ridere. Si può ridere non offendendo nessuno. Bravo, bravissimo. E poi sei il 16 marzo a Trapani. Sì, sì. Poi siamo a Trapani, a Catanzaro e poi alla Mezzia Terme. E poi dall'11 al 21 aprile al Teatro Sistina di Roma. Al Sistina di Roma, per i Natali di Roma. Chiudi il 21 aprile. Bravissimo, il 21 aprile. Veniamo a Roma. No, siamo qui in onda noi. Ah sì? Sì, siamo in onda. Non puoi andare a nessuna parte. Un altro giorno. Tu devi stare qua. Un altro giorno. Devi cantare la nannini. E cantare con la gianna. Ma ce l'hai il cellulare? No. No, no. Vado a prenderlo. Sì, puoi. Ma andiamo qualcuno a prenderlo. Sì. Qualcuno può andare a prenderlo. Dove ce l'hai? Di qui dietro. Qualcuno può andare a prendertelo? Sì. Con qualcuno qui dietro. Sì. Ma che cosa fa? Cosa sta facendo? Sta succedendo qualcosa. Cosa sta facendo? Sta cercando il numero qua dietro. Era già pronto. No, ma io ho detto mandiamo qualcuno. No, lei ha detto guarda, è già qui. Ah, è già qui. Va bene. Allora adesso facciamo il pezzo di... Non lo so. Però mi ha detto dire di guardare il cellulare. Allora...